La Diocesi di Verona è proiettata nella realtà delle unità pastorali per dare una risposta nuova non solo alla diminuzione dei preti ma anche alle modalità di fare pastorale per questo si è tenuta una giornata formativa nella Casa Pastorale Giovanni Paolo II di San Massimo nella quale il Vescovo Zenti ha voluto porre al centro alcuni punti saldi di questa nuova realtà Noi puntiamo molto sui coordinatori, cioè sui preti che hanno il compito di coordinare tutto questo processo per arrivare all'unità pastorale e hanno il compito di aiutare i preti e anche i laici ad essere corresponsabili nell'impianto della unità pastorale su un progetto che è Diocesano ma poi territorializzato concretamente, improntato soprattutto sui percorsi differenziati Penso alla formazione degli animatori per esempio, delle catechiste e tanti altri cammini differenziati che sono importantissimi per creare, per formare dei cristiani adulti capace poi di coniugare la propria fede con la vita concreta Come quest'unità pastorale potrà aiutare a servire più parrocchie? Beh, la prima cosa è mettendo in condivisione tutte le persone che sono coinvolte a partire dai consigli pastorali parrocchiali, i sacerdoti e poi anche tutte le persone che già vivono un ministero Penso alle catechiste, penso a tutti coloro che fanno attività di formazione Non solo comunicare ma anche pensare qualcosa insieme anche di nuovo percorsi che possono essere condivisi sia dalla formazione come anche dall'esecuzione La giornata formativa si è rivolta ai coordinatori delle unità pastorali e ai vicari foranei Tra loro anche i laici che da tempo seguono il coordinamento delle unità pastorali Già da un anno, anche abbondante, si è creata un'equip di cui fanno parte una decina di persone quasi tutti i laici, poi c'è anche qualche sacerdote, c'è un diacono guidati da Don Alessandro Bonetti che è il vicario con il compito proprio un po' di accompagnare tutto il periodo di nascita e finché ci sarà bisogno di crescita dell'unità pastorale